Se io uso l'energia del Sole, sono più indipendente. Se lo facciamo noi, siamo più liberi dalla CO2. Se io scelgo un riscaldamento intelligente, risparmio. Se lo facciamo noi, guadagna anche il pianeta. Se io mi muovo senza inquinare, è un passo avanti. Se lo facciamo noi, è l'inizio di una nuova era. Se io scelgo E.ON, ho un'energia 100% rinnovabile. Se lo facciamo noi, trasformiamo le nostre case con l'energia del futuro. Passa a E.ON. E oggi con il Superbonus conviene ancora di più. Grazie.